I carabinieri della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 39enne e un 52enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 30 chili di hashish. I militari dell'arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi della centralissima via Fardella, hanno notato il 39enne già gravato da numerosi pregiudizi di polizia che con atteggiamento guardingo e circospetto caricava nel cofano della propria autovettura una enorme busta consegnatagli dal 52enne. I carabinieri hanno quindi deciso di controllare i due e in quel frangente, alla vista dei militari, il 39enne ha tentato una fuga a piedi venendo però raggiunto dai carabinieri che a seguito di una perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 94 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 10 chili. L'attività è poi proseguita con una perquisizione presso l'abitazione del 52enne situata nelle immediate vicinanze dove era stata parcheggiata l'autovettura, dove sono stati rinvenuti ulteriori 203 panetti della medesima sostanza per un peso complessivo di oltre 21 chili. A seguito dell'udienza di convalida, entrambi sono stati ristretti presso il carcere di Trapani.